Lei si è immedesimato proprio il più possibile, pensa di esserci riuscito ad acquisire, ma rievocare alcuni, almeno alcune di queste particelle della vita che poteva fare un soldato, una vita di sangue, sudore e merda quotidiana, tutti i giorni, quando ha passato quelle notti terribili sull'Ortigara? Beh, completamente no, però penso di essermi avvicinato, è importante che ci sia un cortocircuito tra le proprie letture e i luoghi, cioè bisogna mettersi i libri nello zaino e leggerli nei luoghi di cui quel libro parla, bisogna entrare nei luoghi, nel senso, entrare proprio in quelle gallerie, in quelle, sporcarsi gli scarponi, bagnarsi, diciamo, è tutto utile, tutto propedeutico a capire queste cose. Per esempio, una volta sono stato con dei ragazzi di un liceo all'interno di una galleria di Cima Gallina, che in realtà dovrebbe essere Cima Gallina, perché Cima Gallina è stata battezzata poi, dopo la conquista da parte italiana, ma abbiamo questi toponimi assolutamente improbabili, Cima Gallina non esiste, vuol dire giallina, perché è Dolomia per l'appunto. Eravamo appunto a Cima Gallina, siamo entrati dentro una galleria con grandi spifferi di vento, un buio totale, con alcune luci, con un generatore che andava, io raccontavo delle cose a questi ragazzi che erano ovviamente distratti, attaccati ai telefonini, eccetera. A un certo punto ho chiuso il generatore e siamo finiti nel buio più totale. Sti ragazzi sono piombati nel silenzio più totale, erano veramente spaventati, perché non sapevano, non riuscivano neanche a vedersi tra di loro. E a un certo punto ho acceso la mia lampadina frontale e così a freddo ho letto una lettera di un soldato che aveva combattuto proprio da quelle parti e che in una notte nera scriveva alla propria famiglia. Da quel momento è cambiato tutto, cioè questi ragazzi hanno trasformato la gita scolastica in qualcosa di molto più profondo, se per loro è bastato quel momento di buio perché quello diventasse un viaggio iniziatico. Addirittura gli insegnanti mi hanno raccontato che poi questi ragazzi tornati a scuola hanno parlato continuamente di quanto era accaduto a partire dal momento in cui c'era stato quel blackout, costruito naturalmente. ma arrivavano al punto da prendere in giro gli altri ragazzi che quell'esperienza non avevano avuto, quindi sentivano di essere cresciuti, cioè di avere fatto un piccolo passo verso l'età adulta. E questo è profondamente commovente. E poi c'è sempre questo discorso dell'autosuggestione. Io l'ho sperimentato molto quando ho fatto, sette anni fa, il viaggio alla ricerca dell'ombra di Annibale. andare alla ricerca di un personaggio così gigantesco era per me una sfida spaventosa. Però ogni tanto accadevano in questa ricerca delle cose che mi facevano capire che in effetti la storia poteva essere raccontata. Vi faccio un esempio. Sono stato sul Caucaso ai piedi del Monte Ararat in Armenia a vedere i resti di una città che Annibale, al termine della propria carriera di generale, poi di uomo politico, poi di pirata, poi di costruttore di città, aveva eretto per il re degli armeni. Alla fine di questo viaggio, di questa escursione, diciamo, che era a poche centinaia di metri dai reticolati del confine turco, così abbastanza scontento di quello che avevo visto, perché in quattro pietre, cosa hai da raccontare di quattro pietre? Se non sei un archeologo, no? Non è che quattro pietre ti parlano. E allora lì scatta sempre una vecchia massima che io ho imparato da un grande del giornalismo italiano, Egisto Corradi, che è se non trovi notizie vai a farti un giro e qualcosa troverai. E così ho fatto, assieme al mio interprete, siamo andati a camminare per delle montagne lì vicino. Abbiamo trovato una valletta bellissima, tipo Shangri-La, con un ingresso quasi nascosto, sembrava quasi una fessura tra le montagne. Dietro c'era una meravigliosa spianata erbosa, insalita con in alto un monastero armeno. E mentre camminiamo, vediamo delle greggi e un pastore che ci chiama. Questo pastore ci invita a salire da lui, c'era il fuoco acceso, aveva del vino, del pane, tipo sardo, carta musica, e non mi ricorda il formaggio. Sì, e ci dice di sederci, di... E a un certo punto mi chiede, ma lei che cosa è venuto a fare? E spesso le cose belle nascono dalla domanda, dalla domanda una domanda naif, che ti obbliga a una risposta semplice. E io ho risposto, sono venuto a cercare un uomo vissuto 22 secoli fa. Se avessi dato questa risposta a un pastore italiano, mi avrebbero ricoverato. Ma un pastore abituato ai lunghi silenzi del Caucaso, è sembrato una risposta assolutamente plausibile. E allora mi ha detto, ma raccontami la sua storia. E io ho dato, siccome avevo già bevuto un po' di questo ottimo vino caucasico, che mi ha fatto subito pensare alla storica ciocca primordiale di Noè, che proprio da quelle parti penso che si sia ubriacato, e ho raccontato al meglio delle mie possibilità, sempre con l'interprete che mi andava dietro, la storia di Annibale che attraversa le Alpi con gli elefanti. e gli dico un dettaglio molto importante, gli dico, vedi, io sono convinto di una cosa, dico al pastore, che Annibale in realtà, per Annibale l'idea di battere i romani fosse relativamente importante. A lui interessava una sola cosa, che la sua memoria non fosse cancellata, cioè voleva fare qualcosa che restasse nella storia dell'umanità. E io ho detto anche, per esempio, io sono convinto che gli elefanti non gli sono serviti a scopo militare, cioè non servivano a vincere le battaglie, che poi lui avrebbe vinto ugualmente, vedi la battaglia di Kahn, ma servivano a impressionare le popolazioni alpine che di fronte a questi pachidermi avrebbero fatto circolare la voce dell'africano che veniva da lontano con degli animali mai visti. E quindi questa cosa, che non era mai avvenuta nelle Alpi fino a quel momento, avrebbe portato la fama di Annibale ben oltre il limite biologico della sua vita. Allora vedi il pastore che sta lì, pensa, e dopo mi fa ma secondo te c'è riuscito? Quindi era ben dentro la storia questo pastore, assolutamente illetterato, però attento a tutte le inflessioni della voce mia e del traduttore. Lui era nella fiaba e pensate che nel tempo che io raccontavo è arrivato suo padre, quindi il vecchio, è arrivato il figlio che si chiamava Arman, naturalmente, con i capelli rossi, è arrivata la moglie che ha cominciato a distribuire altro vino e sono arrivati altri pastori anche, no? Quindi situazione omerica. E io sentivo che là veniva la storia, che la storia non era la ricostruzione storica di Annibale, ma era il racconto del racconto. Che cosa succedeva a raccontare Annibale? Bene, allora lui mi chiede, ma secondo te Annibale c'è riuscito? E io dico, certo c'è riuscito, se no non sarei qui a cercarlo ventidue secoli dopo. E poi gli aggiungo, io e te forse non ci saremmo mai conosciuti se lui non fosse esistito. Questa frase lo ha steso, ci ha pensato ancora un po', poi ha ordinato altro vino alla moglie e ha alzato il bicchiere e ha brindato con un, sapete che i brindisi dei russi, ma anche degli armeni sono interminabili, ha brindato per cinque minuti chiamando a raccolta gli antenati, la testa di suo figlio, la Maria Santissima che aveva lì presente con una piccola icona, le nevi del Monte Ararat, la storia degli armeni, eccetera eccetera, l'amicizia, per dire che quello era stato per lui un momento importante della sua vita. A quel punto ci siamo, hanno portato un capretto arrosto, il fuoco scoppiettava, gli altri pastori erano con noi, con gli occhi luccicanti e io ormai completamente cotto di vino e sono imbarcato nell'aereo completamente ubriatico qualche ora dopo, giuro che in quel momento a cena con noi non c'era solo Annibale ma anche il vecchio Noè che godeva a questa grande libattura.